Ciao, sono Ilaria e sono una volontaria di Manitese. In questo periodo particolare sto facendo anche la volontaria per il Comune di Milano, che in collaborazione con Vari realtà del territorio sta organizzando delle attività di supporto alle persone che in questo momento sono più in difficoltà. Nello specifico io faccio la volontaria con le bregate volontarie, che sono coordinate dai ragazzi del collettivo Lambretta. e loro organizzano spese a domicilio, attività di colletta alimentare e di distribuzione di pacchi alimentari. Oggi sono davanti all'Esselunga a fare una colletta alimentare. Siamo qui, abbiamo i nostri carrelli e i ragazzi hanno comprato dell'acqua da distribuire alle persone che stanno in fila, hanno stampato dei volantini in modo da lasciare alle persone che stanno in fila in modo da ricevere direttamente aiuto.